Buona e santa serata, che il Signore sia con voi, che il Signore vi visiti con tutto il suo amore e vi porti sempre la sua pace e la sua benedizione. Per aiutarvi nell'esame di coscienza voglio consegnarvi una strofa del Salmo che ascolteremo domani nella Santa Liturgia e vi esorto sempre a leggere le letture della Messa del giorno, ad ascoltare il Vangelo con il commento perché vi aiutano e vi danno forza e vi sostengono nella prova. La salvezza dei giusti viene dal Signore. Nel tempo dell'angoscia e loro difesa, il Signore viene il loro aiuto e li scampa, li libera dagli empi e da loro salvezza perché in Lui si sono rifugiati. Allora, questa sera, al termine di questo giorno, è sempre, dobbiamo dire Signore, in Te mi rifugio, non sarò mai deluso. Rifugiamoci con amore e con fede in questo cuore ricco di misericordia. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E c'è un altro cuore ricco di amore nel quale dobbiamo sempre, sempre rifugiarci che è il cuore della Madonnina nostra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ora vi dono la santa benedizione. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. A tutti di cuore. Buonanotte con il Signore accanto a voi. E ci ritroviamo domani alle 17.20 per il Rosario, se volete, se siete disponibili, e poi la Santa Messa alle 18.00. Vi voglio bene.